Siamo ai rintocchi finali, signori! Le questioni nella casa sono tante e si stanno intricando sempre di più. Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del TG5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di striscia la notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori. Siamo quasi arrivati alla fine dell'edizione che, dopo anni, ha riportato i personaggi non famosi all'interno della casa più spiata d'Italia e qualche VIP. Un mix che è piaciuto al pubblico, anche se a vedere gli ascolti pare non abbia entusiasmato più di tanto. Come riportano diversi siti, infatti, gli ascolti di questa edizione sono stati i più bassi della storia del reality show, anche dell'ultimo Grande Fratello VIP, quello che era stato particolarmente criticato dal pubblico a casa e da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Siamo arrivati a una settimana dalla finale del Grande Fratello e le prime due finaliste sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. L'attrice, grande protagonista di questa edizione del reality, è uscita in Moon in ben 111 nomination e qualche settimana fa è stata nominata prima finalista del Grande Fratello raccogliendo oltre il 60% delle preferenze del pubblico a casa. La ristoratrice, invece, è riuscita ad arrivare in finale dopo lo scontro diretto contro Letizia Petris. Durante la puntata in diretta di lunedì 18 marzo ci sarà l'incoronazione della terza o del terzo concorrente che volerà in finale e raggiungerà Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Secondo diversi sondaggi, e la stragrande parte del pubblico, a vincere il televoto sarà Simona Tagli. L'ex showgirl, entrata appena un mese fa insieme ad Alessio Falsone, ha subito legato con Beatrice Luzzi e per questo motivo può contare sul sostegno del suo numerosissimo fandom. La concorrente è molto amata dal pubblico, perché non ha mai paura di esprimere il proprio giudizio e di farsi nemici in casa, proprio come l'amica Beatrice. Nei sondaggi Simona Tagli ha raggiunto addirittura il 64% delle preferenze e molto probabilmente sarà proprio lei ad arrivare in finale. Non solo, c'è qualcuno che addirittura pensa che la Tagli potrebbe dare filo da torcere all'amica. Simona Tagli io ti amo, ti porterò in finale con Beatrix, bello vedere sto branco di geni votare ad oltranza cancelletto Simona come con cancelletto Beatrice e autoeliminarsi, dei bulletti non so se qualcuno arriverà in finale, si legge sui social, dove proprio Simona è quella favorita a raggiungere la Luzzi e Rosy Chin. Passiamo poi all'azione barbina di Anita che tenta di vendicarsi e lo farà per bene. Nella casa del grande fratello la nuova coppia formata da Alessio e Anita ha attirato l'attenzione di tutti. Un amore nato a poco dalla finale del programma, in programma il 25 marzo, grazie allo zampino del grande fratello, che la scorsa settimana ha regalato ai due una serata in suite, con cena romantica e la possibilità di dormire da soli. Una buona parte dei concorrenti di questa edizione ha fatto il suo ingresso nella casa a settembre. Molti altri invece sono entrati a reality già avviato, proprio come Alessio Falsone, entrato nella casa insieme a Simona Tagli, probabile terza finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come detto, l'ultima coppia nata è quella formata da Anita Olivieri, che ha lasciato lo storico fidanzato Edoardo Sanson e Alessio Falsone, che dal suo ingresso nella casa aveva stretto un forte legame d'amicizia con Perla Vatiero, concorrente che aveva aperto a un possibile interesse verso il giovane. Anche lo stesso Mirko Brunetti si era allontanato da Perla dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della ragazza su Alessio fatte durante la notte a Greta e Sergio. Niente di fatto, perché Alessio ha poi intrapreso una storia con Anita Olivieri, concorrente che in queste ore ha commentato la storia tra Perla e Mirko. Come sappiamo i due ex, dopo l'esperienza a Temptation Island, si sono ritrovati nella casa del grande fratello e ormai sono mesi che i due hanno confronti e scontri, prima nella casa e dopo l'uscita del giovane durante le dirette. Secondo molti telespettatori si tratta solo di dinamiche create a tavolino per gli ascolti del programma, mentre altri credono ancora nell'amore tra i due ex fidanzati. In queste ore anche Anita Olivieri ha commentato la storia tra i due e lo ha fatto tirando una frecciatina a dir poco velenosa. Anita ha detto ad Alessio che non crede alla coppia Mirko Perla e che fuori dalla casa si lasceranno perché è una coppia fasulla, si legge su X, dove gli utenti hanno commentato la frecciatina di Anita. È il suo modus operandi. Screditare gli altri. Non mi piace dal giorno zero appena finita la uno puntata disse di essere stata sempre marginata perché bella, nessuna ragazza voleva fare foto con lei. Bugiarda e ridicola, che falsona e che invidiosa. Prima mette le corna al fidanzato storico e poi lo smerda davanti tutta Italia, dobbiamo credere a lei e Alessio? Spero che escano lei e il suo fake boy. E ancora signori, a tenere accesi gli animi ci si mette anche la sorella di Perla. Mirko. Tremendo. Grande fratello, parla alla sorella di Perla e racconta cosa accadrà quando la giovane uscirà dal reality e dovrà affrontare quello che vuole da tempo, una relazione con Brunetti da tempo agognata. A parlare e a dire la sua e appuntalo a Navatiero. La donna, che da tempo rilascia interviste e dà opinioni su personaggi connessi direttamente o indirettamente alla sorella, è in vena di confidenze e spesso, ultimamente, dà filo da torcere ai personaggi di questa edizione del reality. Qualcuno infatti ricorderà quando ha definito Beatrice Luzzi una grande provocatrice e le Alessio falsona uno pagliaccio. A quel punto Signorini l'aveva voluta con ad un confronto proprio con quest'ultimo e le cose erano andate fin troppo bene. Ora Loana torna a parlare al microfono di Giada Di Miceli a Radio Radio nel programma Non succederà più. Chiaramente si parlava dell'amore mai terminato tra Mirko Brunetti e la sorella Perla. A questo punto Loana ha detto, si è ingelosito di Alessio, io ci parlo, lo sento. L'ha anche detto ad Alfonso, mostrò questa sua gelosia nei suoi confronti e lo disse che gli aveva dato fastidio quella situazione. Mirko è stato un po' tremendo, quando esce Perla sicuramente ci saranno tante cose da affrontare tutti insieme, però penso che in quei giorni in cui sono stati insieme in casa hanno parlato tanto prima di esporre da ambo i lati i loro sentimenti. Penso che prima di arrivare a dirsi ti amo hanno parlato un bel po', mia sorella sotto questo punto di vista non è una sproveduta. Loana Vatiero poi racconta, lei ci è andata veramente con i piedi di piombo, ha voluto capire, e poi si sono parlati in quei giorni. Io penso che mia sorella non ha mai smesso di amarlo, infatti la mia prima paura è stata questa. Ho detto che mia sorella entrava da innamorata e sapevamo che uscendo fuori il triangolo con Greta, quando sarebbe entrata lei non l'avrebbe vissuta bene. Ritrovarsi in una casa con l'ex è dura per una persona che lo ama ancora, la prima cosa che le chiederò è come ha fatto a tenere i nervi saldi in una situazione simile. Dice quindi Loana Vatiero, è stata una donna matura, soprattutto quando ha cercato di capire sia Greta che Mirko. Non ci dimentichiamo che ora lei ha espresso questo bene nei confronti di Greta. Quando usciranno non lo so quanto dureranno, perché tutti e tre insieme ci credo poco. Penso che loro sicuramente si sentiranno, il bene non passa, ma sarà difficile gestire un'amicizia del genere. Se non ci fosse stato Mirko questa amicizia sicuramente sarebbe continuata. E infine, per Beatrice Luzzi si prospetta un ruolo da protagonista anche dopo la fine del reality di Canale 5. Per l'attrice data come super favorita alla vittoria finale ci sarebbe un percorso già segnato. Attenzione, non si parla di teatro o cinema come si potrebbe immaginare. Ma di televisione. Pronta a seguirla un esercito di fan. È stata proprio lei a parlarne poco fa con Sergio in giardino. E c'entra signorini. Con l'avvicinarsi dell'ultima puntata del Grande Fratello prevista per il 25 marzo i concorrenti dentro la casa hanno iniziato a riflettere sul loro futuro professionale. Ognuno ha un sogno. Il bidello Giuseppe Garibaldi ha detto che dopo il GF vorrebbe condurre striscia la notizia. In alternativa si immagina come ambasciatore della sua regione di origine, la Calabria. Nel frattempo nell'Alcasa ha iniziato dei corsi di dizione con la Luzzi. Anche Paolo Masella si è lanciato in alcune previsioni. Il macellaio ha previsto che per lui ci saranno partecipazioni come ospite a Verissimo per le classiche interviste, probabilmente in coppia con Letizia, e poi tante serate in discoteca, ma come singolo. Altri concorrenti, invece, hanno detto che non vogliono più avere a che fare con i reality. Almeno per il momento. È il caso di Perla, che ha risposto assolutamente no all'idea che suggerita dall'amica Greta di partecipare anche all'Isola dei Famosi, dopo Temptation Island e, appunto, il grande fratello. Così finisco direttamente in clinica, ha sentenziato la fidanzata di Mirko. E Beatrice che farà? Se lo stanno domandando in molti. Ebbene per le ci sarebbe un ruolo proprio da opinionista del GF, al posto o in condivisione, non si sa, con Cesara Buonamigi. Sergio Dottavi è convinto che quello sarebbe il posto adatto per l'amica. Chissà se Alfonso Signorini ti vorrà al suo fianco, ha detto il surfista all'attrice. L'idea stuzzica bea, anche perché poi avendolo vissuto. Hai una visione più consapevole, ha detto lei. Teoria condivisa dal fidanzato di Greta, questo è un contesto perfetto, per dare un tuo punto di vista prendendo tutto, senza aver paura di dover essere te. E conoscendo il contesto e avendolo vissuto, ti verrebbe molto più facile di quanto non lo sia già stato. Beatrice ha dichiarato che non scarterebbe neanche la prospettiva di condurre una trasmissione del pomeriggio. Intanto proprio in questi giorni sta impazzando su X una clip di quando Beatrice Luzzi alcuni anni fa conduceva la nota trasmissione di Rai 1 dedicata all'ambiente e all'agricoltura linea verde. Nonostante non fosse in teatro o sul set di una fiction, suo habitat naturale, bea ha dimostrato di sapersela cavare anche nel ruolo di presentatrice. Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà. E in C, alla balena.